La fusione nucleare, la quale stella al centro del nostro sistema solare è un brillante esempio, si presenta come l'energia rinnovabile del futuro, poiché rispetto alla fissione nucleare, fino ad ora unica tipologia di utilizzo del nucleare usato dall'uomo per produrre elettricità, produce enorme quantità di energia tramite il consumo bassissimo di combustibile, non produce alcun tipo di scoria o di gas serra inquinanti ed è una reazione facilmente controllabile. Il fenomeno fisico su cui essa si basa è l'unione di due atomi leggeri per crearne uno più pesante. Nel nostro caso si tratta di deuterio e trizio, isotopi dell'idrogeno ampiamente trovabili in natura, ed eglio risultante dalla fusione dei due atomi. Uno dei maggiori impedimenti che la fusione nucleare presenta è senza alcun dubbio la necessità di vincere la forza repulsiva di Column, vinta nelle stelle grazie alla loro altissima pressione e temperatura. Per raggiungere il punto di fusione sul nostro pianeta ci occorre raggiungere la temperatura di 150 milioni di gradi, e questo ci è possibile tramite l'ausilio del plasma, che come si può però intuire non può entrare in contatto con nessuna superficie, ed è per questo motivo che il plasma è contenuto da un forte campo magnetico.